Sono Polygroid e aprendete a Impolygroid Channel. Aspettate e buona giornata. Cosa faranno ora? Dove si nasconderanno? Non lo so. Perciò, guardiamo questo episodio. Ti restano 7 minuti di ossigeno, Gary. You. Guarda, è Carl. Carl, come va la vita? Carl è morto, Gary. Tipico di Carl. Quel bastardo mi doveva 25 dollari. Mayday, Mayday. Puoi intervenire, you. Ci provo. Ci sono delle interferenze. Aiuto. Hai idea di chi sia? No, Gary. Temo di no. C'è qualcuno? Potrei aiutarli. Anzi, me ne resterò qui. Per te. Sarà d'aiuto. Cos'è? Chi c'è lì? Tuo padre è un codardo. Mio padre verrà a prendermi e ti ucciderà. Se non lo faccio prima io. Queen, sembro diverso? Dovrei. Perché stai guardando. L'uomo più desiderato della galassia. Guarda chi c'è. Avogato, vieni a salutare Queen. È un po' burbero. Ma suo figlio è stato rapito. Sì, lo so. Ma c'è una novità. Ho un braccio robotico. Guarda qua. Oh, mio Dio. Come? Credo sia tutto per oggi. Chiamami, Queen. Dimenticavo. Tra quattro giorni, sarò libero. Che ne dici, se? Pericolo in avvicinamento. Gary, gli inceneritori di Lord Comandante. Ci stanno attaccando. Cacchio. Cosa facciamo, Yu? Calcolo in corso. Rilevo un'incursione vicino a noi. Cosa? Un tunnel temporale. È l'unica opzione. Un tunnel temporale può spedirci. Avanti o indietro di migliaia di anni. Sei certo che non abbiamo altra scelta? Tuffiamoci. Prosciutti schiacciati. È stato fantastico. Che ne dici di coprire quel coso? Che cavolo. Ha tempo debito. A proposito, in che anno siamo? Contento? Siamo andati avanti di quattro giorni. Cosa? Quindi ho scontato tutta la pena. Vero, Yu? Mangiate un biscotto. Apriti sesamo. Dammi il mio premio. La clausola 9 della reclusione stabilisce. Che tutte le interruzioni legate al tempo. Non ha effetti sulla tua pena. Cosa? Niente monete di cioccolato? Ti riferisci ai biscotti, Gary? Sì. Oh, allora, no. È una stronzata, Yu. Una stronzata. Ascolta, Gary. Siamo dei bersagli. E non importa dove ci nascondiamo. Il Lord Comandante ci troverà. E prenderà Mooncake. Sì, ci sono molti nascondigli. Ma abbiamo molti problemi. Yu? Avogatto ha ragione. Dobbiamo nasconderlo, intanto. Conosco luoghi in cui aiutano i fuggitivi. Il più vicino è su Yarno. Non lo troverà nessuno lì. Yu? Avvia i motori. Andiamo a Yarno. Terra Comprimo. Settore 18650. Ordine dei dodici. Aiutante Ula. Ho sempre rispettato l'ordine dei dodici. Nel loro ruolo di occhi dell'universo. Dov'è E351? Stai morendo? Sto morendo? Davvero, genio? Lo so. Ogni volta che usi la luce. Acceleri la tua morte. Per questo ho bisogno di Mooncake. O come si chiama quell'idiota. Ho bisogno di lui per vivere. Dimmi dov'è. Pazienza. Non è stato di grande aiuto. Lo troverai per me. O la prossima volta finirò il lavoro. Apri. Warplo. Sono Zargon Tukalishi. Benvenuti a Yarn. Non vedo l'ora di andare a Necropolis. Sembra siano cambiate delle cose. Non mi dire. Necropolis fa pensare. A un piacevole picnic della chiesa. Non temere. Mooncake. Ci pensiamo noi. Lunamelle. Lunamelle fatte in casa. Forte. Distribuiscono caramelle omaggio. A un ghiacciolo. Mi sento come nuovo. Oh. Wow. Cos'è questo? Ho una freccia conficcata nel, tetticolo. Puoi non prendere schifezze. Da strani alieni? Nota. Non prendere schifezze dagli alieni. C'è un enorme disturbo gravitazionale. A due parsec da Giove. Se ho ragione, le nostre vite dipendono. Queen, sono tribore. Non temere. Sono a casa tua. Va tutto bene, ma ho pessime notizie. Non ti piaceranno. Non so cosa sia successo agli altri. Dove sono andati tutti? Dimmelo subito. Te lo dico subito. Ieri il superiore Stone ha inviato. Un incrociatore Imperium a catturarti. Poiché hai infranto molte leggi. Circa 47. Perché non me l'hai detto prima? Perché non l'ho detto prima? È questa la domanda? Ho avuto da fare. Stai toccando le mie cose? Perché toccare le tue cose? Che mi rendono bellissimo? Non toccherei mai le tue bellissime cose. Queen, un incrociatore Imperium. Si avvicina alla tua posizione. Ci siamo, Gary. Ci siamo? Proprio qui. Non intendo entrare. Benvenuti nella sezione Yarno. Dell'Ordine dei 12. Un rappresentante sarà presto da voi. Come posso? Dio. Aiutarvi? Chiaro. Sei un aiutante? Oh, no. Aiuto gli aiutanti. Quindi, sei un aiuto aiutante? Gli dirò che siete arrivati. Gente che attraversa i muri. Abituati. Non posso. Quel tipo ha appena attraversato il muro. Come un fantasma. Come posso aiutarvi? Noi amiamo aiutare. Grazie. Ci serve un luogo sicuro per un amico. Mi dispiace. Siamo al completo. Ma possiamo sempre stringerci un po'. Un esemplare così prezioso. Puoi dirlo in un modo meno inquietante? Ok, immagino di no. Mooncake. Chukiti? Non ci stiamo dicendo addio, ok? Torno il prima possibile. È una cosa temporanea. Te lo prometto. Chukiti pa. Gary, starà bene. Sa badare a se stesso. Non ho capito il tuo nome, signor. Male. Frena. Ok. Il tipo inquietante si chiama, male. Non lascerò Mooncake con uno. Che si chiama male. Male è un po' allarmante. E come? Vogliamo solo aiutarvi. Avogatto. Andiamo altrove. Fermi. Ok, questo è l'urlo di allarme di un'arpia. Vero e proprio. Mooncake. Dormite. Avvisa l'alto aiutante Ula. Che siamo stati molto utili. Male vive proprio secondo il suo nome. Siamo finiti nell'oblio. Del parco divertimenti con scale infinite. Divertente. Grazie, avogatto. È una trappola di Lazzaro. Solo un maestro delle trappole. E un amante delle scale può farla. Almeno non stiamo affondando. In un lago di lava. Ascoltami. Qualunque cosa pensiamo. Diventa realtà, ok? Ok, quindi dobbiamo pensare positivo. Biscotti. No. Ehi. Mangiami. Sono delizioso. Sono un biscotto. Cosa? Non sto immaginando biscotti assassini. Ti ucciderò. Sono tutti. Super eccitati per i sacrifici di oggi. Alla necropolis. Ma tu non verrai sacrificato. Il Lord Comandante ha bisogno di te. Cosa fa? Chukiti pa. Qui in Aragone, abbiamo l'ordine. Di arrestarla per furto aggravato. Chuck. Sì. Qui è Chuck. Per favore, arrenditi. E tutto questo finirà. Ascolta, idiota. No. Mi ha chiamato, idiota. Ok, sì. Credo che tu sia in arresto. Ehi. Scordatelo, testa a pera. Dio. Cos'è una testa a pera? D'accordo. Ascolta, Queen. No. Ascoltami tu. Cerco di salvare il mondo. Quindi, inverti la rotta. E dimentica di avermi vista. Stai piangendo? No. Non sto piangendo. È polline spaziale. Non hai detto la parola magica. Perché solo io sono ricoperto di biscotti. E tu non. Gary, non pensare ai biscotti. Non credo sia possibile. Sono uno creativo. Sarebbe forte se avessero sguardi laser. Corri. Oh, mio Dio. Pensa ad altro. Qualunque cosa. Hai tridenti? No. Sì. Non hai tridenti. Penso a biscotti assassini. Con tridenti e sguardo laser. Non penso a niente, niente, niente. Santo cielo. Ti mangerò gli occhi. E farò pipì nella tua orbita. Non uscirete mai da questo posto. Perché quel biscotto sta da solo? Lungo il bordo? Sta saltando. Sembra un angelo. Oh, mio Dio. Ti ucciderò. Mi sta pugnalando un occhio. Ciuchiti pa. A coloro che vivono. Per coloro che muoiono. Non è giusto. Sono stato buono. Ho aiutato le persone. Sono stato paziente. Incredibilmente paziente. Oh, Lord Comandante. Ho portato la medicina, signore. C'è anche un biscottino. Solo per te, mio principino speciale. Cos'è questo? Mi piacciono i biscotti più piccoli. Te l'avevo detto, Eric. Te l'avevo detto. Siamo stati molto utili. Abbiamo trovato Mooncake. La mia pazienza ha dato i suoi frutti. Più si uccide. E più i dodici titani sono felici. Dobbiamo svegliarci. Chiudi gli occhi. Vuoi che mi svegli chiudendo gli occhi? Non ha senso. Nulla ha senso qui. Ben detto. Ok. Chiudo gli occhi. Non funziona. Ciao, Gary. Queen? Ne è passato di tempo. Vieni qui. Mi sei mancato. Sei davvero tu? Avvicinati. Gary. Lasciami. Fa parte della trappola. Gary, non ascoltarlo. Devi fidarti di me. Lei non è reale. Andiamo a casa, papà. Ok. Fidati di me. Dobbiamo svegliarci entrambi. Non voglio svegliarmi. Allora, questo non ti piacerà. Siamo usciti. Ho salvato entrambi. No, io ho salvato te. E io, te. E invece, no. Sì, invece. Ci hai quasi uccisi, Gary. Allora siamo pari. Troviamo Mooncake. Gary, Mooncake starà bene. È una super arma. Ti sbagli. È una pallina verde. Indifesa e amorevole. You, ci sei? Dove sei stato, Gary? Sembrerebbe folle solo da spiegare. Puoi individuare la posizione di Mooncake? Piccolo amico. È il momento del sacrificio finale. Morte. 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 Ciao, Mooncake. Ti ho cercato dappertutto. Non essere timido. Vieni a salutare. Come ho fatto a diventare così debole? Mooncake. Dut. 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 Ciuchiti. Gary. È finita, il Gary. Gary. È solo, Gary. Qual è il tuo problema? Perché non ci lasci in pace? Non ne hai idea, vero? Mooncake è la chiave. Quell'essere può sbloccare. Lo spazio finale. Cos'è questo benedetto spazio finale? È affar mio. Facciamo un gioco, Gary. Amo i giochi. Vinco sempre. Consegnami quello che voglio e io. Oh, mio Dio. Dolce guanto di Gandor. Sei un'arma di distruzione di pianeti. Ciuchiti. Sì. È davvero fantastico. Non si gioca così. Che ne dici di questo gioco? Mancato. Spara alle serrature. Gary. Attento. Ti salverò, Gary. Ti salverò. Sono venuto a salvarti, Gary. Siete in salvo. Dannato KVN. Ti odio. Non vedo l'ora che tu muoia. Santo cielo. Nessuno sarà triste. Ci sarà solo tanta felicità. Ciao, Gary. Non lo dire. Non lo dire e basta. KVN ha sistemato tutto. Il disturbo gravitazionale. È enorme e in crescita. Tanto. 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 È ciò che cercavo di dirti. Sonda guasta. Pericolo. Sonda guasta. Andiamocene subito. Oh, Dio. Attivare propulsori posteriori. Non sono una testa a pera. Mayday, mayday. Parla Queen Aragone. Qualcuno mi sente? Aiutatemi. Ho elaborato la scansione dei prigionieri. Trasferiti da Terra con Primo. Non ci sono risultati per Gatto Junior. Mooncake. Che hai, amico? Capisco. Emetti un raggio mortale dalla tua faccia. E allora? Succede anche ai migliori. L'altro giorno ho mangiato un burrito. E avresti dovuto vedere. Il raggio mortale uscito da. È una cosa carina, se ci pensi. Voglio solo che tu sappia. Che non è cambiato nulla tra te e lui. Io? Non tu. Ciuchiti. Lui. Non fa di te il cattivo. Davvero. Il cattivo è la canaglia. Che vuole usarti come arma. Sei il più buono che ci sia. Non ti lascerò mai più. Ora so che posso affidarti solo. Alla mia grandiosità. Inizia a piacermi. Gary, sto ricevendo. Una chiamata d'emergenza. Mayday, Mayday. Sono Queen Aragone. Qualcuno mi sente? Aiutatemi. Oh, cacchio. E Queen. Sottotitoli. Ramona Maurizzi.